E' una giornata importante per il campionato di eccellenza, oggi ci sarà la stesura dei calendari alle 17.30 con diretta a Facebook sui canali della Lega Nazionale di Lettanti Campania. Sette le compagini irpine, tutte inserite nel Giro Neapoli, Sportiva Grotta, Polisportiva Lioni, Lions Mons Militum, Virtus Avellino, Città di Avelline Clanese, Vistariana Accadia e Audax Cervinara, mentre sabato inizierà la Coppa Italia di Lettanti che sarà intitolata ad Angelo Zeuli. Intanto il mercato per le squadre di casa nostra continua a ritmi serrati. All'Ians Mons Militum di Mister Contaldo è arrivato Mario Elefante, classe 1998 di Gragnano. Elefante è un terzino sinistro dotato di gran corsa, il città di Avellino scatenatissimo ha ufficializzato il portiere Raffaele Capasso, classe 2000 ex frattese Ercolanese Giuliano, altro colpo del DS De Vito. Adolfo Gerolino, ex Mugnano e con esperienze tra i professionisti con le maglie di Bellari e Prosesto, è un nuovo giocatore del Baiano. L'Alta Villa in prima categoria ha ingaggiato Mario Mazzone, portiere ex Sant'Omaso e Mano Calzati. Carmine Nunziante ha firmato invece con la Polisportiva Toriello, formazione di seconda categoria. Non è escluso che nelle prossime ore possa esserci qualche altra importante trattativa. Il calcio dilettantistico ha voglia di ripartire dopo un lungo periodo difficile.